Poi l'altra cosa che volevo mettere in evidenza è riguardo appunto le finanze dello Stato italiano, nel senso che ieri sono iniziate le vendite in qualche modo dei BTP, dell'emissione insomma del BTP valore che questo BTP che è un titolo di Stato appunto italiano che dura mi sembra in questo caso 6 anni se non sbaglio, dovrebbe durare 6 anni che dà insomma dei rendimenti piuttosto interessanti visto anche per mantenere quello che è il potere d'acquisto per evitare che sia troppo eroso questo dall'inflazione e c'è stata una domanda piuttosto alta, BTP valore da primato al debutto la domanda supera i 6 miliardi, chiaro che questi risultati si ottengono in un contesto appunto di aumento dei prezzi insomma anziché tenere chi ha qualche soldino da parte anziché tenerlo lì chiaramente lo investe in BTP che sono titoli relativamente sicuri e ora ci arriviamo anche al discorso della sicurezza dei titoli di Stato, sicuramente più sicuri di altri titoli insomma ecco da questo punto di vista visto che sono emessi da uno Stato, però anche lì c'è da dire qualcosina ora lo diciamo comunque leggiamo che cosa scrive il Sole, partenza record per la nuova emissione del BTP valore a conclusione del primo giorno di offerta le richieste sono arrivate a 6,44 miliardi nel primo giorno di emissione del presente collocamento del BTP valore dello scorso ottobre le richieste totali a fine giornata erano state pari a 4,76 miliardi di euro l'emissione del BTP valore durerà fino a venerdì 1 marzo salvo chiusura anticipata il titolo ha una durata di 6 anni appunto cedole pagate ogni 3 mesi con rendimenti prefissati e crescenti quindi i rendimenti mi sembra vadano dal 3,5 al 4,25% se non sbaglio quindi nei primi 3 anni dovrebbe essere il 3,50 poi gli anni successivi gli ultimi due anni dovrebbe essere il rendimento al 4,25 qualcosa del genere comunque più o meno è quello il rendimento che assicura il titolo di Stato sul titolo di Stato appunto sui BTP valore sui titoli di Stato insomma soprattutto quelli di nuova emissione da qualche anno purtroppo i nostri titoli di Stato non sono più dei titoli così sicuri come erano una volta nel senso che come ho già spiegato ho avuto modo di spiegare altre volte sono soggetti alle cosiddette CAC i nostri titoli di Stato che non è i CAC che sarebbero i contratti di azione collettiva sostanzialmente questo significa ma che cosa sono? molto diciamo velocemente sono delle clausole non contratti clausole di azione collettiva sono delle clausole sostanzialmente che in caso di problemi vedi per esempio un attacco speculativo come c'è stato per esempio nel 2011 in Italia col debito pubblico italiano sotto attacco e la banca centrale lì che sta a guardare senza intervenire senza fare nulla vabbè questo è un altro discorso il governo secondo queste clausole potrebbe dire guardate siamo in una situazione particolare abbiamo un debito pubblico troppo grosso non riusciamo a ripagare tutti i debiti che abbiamo contratto e quindi una parte di questi BTP non saranno rimborsati questo sostanzialmente è quindi se hai investito 100 potresti vederti ritornare indietro soltanto 80 quindi non è un affarone ecco da questo punto di vista quindi io non lo dico chiaramente per mettere paura o cosa ma per avere maggiore consapevolezza nel momento in cui si va a investire anche su un titolo di Stato che diciamo così sono situazioni molto remote che possano accadere però visto quello che abbiamo vissuto in passato recentemente soprattutto all'interno dell'eurozona sicuramente non siamo tra i paesi diciamo tra le economie avanzate più sicure dal punto di vista dei titoli di Stato rispetto a questo c'è anche da dire che sono ancora in vita oggi dei titoli di Stato che vengono chiaramente scambiati sul mercato che non sono soggetti a queste cacca queste clausole di azione collettiva che garantiscono anche dei rendimenti piuttosto alti perché erano stati emessi diciamo nella fase pre-2013 se non sbaglio ci sono dei BTP ancora in essere insomma ancora attivi da questo punto di vista che però non convengono molto oggi perché chiaramente i loro prezzi sono più alti insomma di 100 ecco perché di solito il titolo di Stato lo acquisti quando ha l'emissione a 100 il valore è 100 invece oggi sono più sopra sono oltre diciamo quella fetta lì perché garantivano anche un rendimento molto alto si arrivava anche a rendimenti dell'8-9% ecco questo insomma quindi tanta roba da quel punto di vista lì quindi per dire che insomma ci sono anche ancora oggi dei titoli di Stato che non sono soggetti a queste cacca andiamo su Milano Finanza andiamo su Milano Finanza che apre con lo stesso articolo appunto lo stesso diciamo tema di cui abbiamo appena parlato sul Sode 24 Ore maxi acquisto di BTP ordini record da 6,4 miliardi nel primo giorno dell'emissione valore superato il primato di giugno 2023 sottoscritti oltre 210.000 contratti più 14% l'importo medio investito di 30.553 euro ma c'è chi ha messo sul piatto 3 milioni e poi sulla questione dell'inflazione l'inflazione scende ma la BCE aspetta vuole essere certa del ritorno al 2% aspetta naturalmente la BCE per ridurre i tassi che sarebbe anche l'ora questo proposito rispetto al discorso dei tassi della BCE e delle conseguenze negative che ha portato anche sul bilancio conseguenze negative tra virgolette che ha portato sul bilancio della BCE perché il bilancio 2023 della BCE si è chiuso in perdita ho fatto proprio un video domenica quindi lo potete andare a recuperare sia su Facebook che su YouTube anzi soprattutto su YouTube e lì spiego perché insomma non è questo grosso problema o questo autogol della BCE come è stato raccontato da alcuni giornalisti lo abbiamo sempre detto se vogliamo un vero cambiamento soprattutto dai nostri politici è necessario che la consapevolezza sul funzionamento di un'economia monetaria moderna che è quella nella quale viviamo cresca sempre più tra i cittadini che sono coloro che eleggono quei politici per questo Fefa Academy ha realizzato il videocorso di economia e finanziamento oggi ha un prezzo davvero accessibile a tutti una piccola spesa per una grande resa e poi ti regaliamo anche il nuovo libro di Stephanie Kelton il mito del deficit cosa aspetti? tutte le info su www.fef.academy www.fef.academy